Quindi questi non si possono piazzare, proviamo a combinarli insieme, cosa succede se li combiniamo insieme? Non succede un niente, non succede un fico secco, o forse bisogna fare così? Oh mio dio cosa devo fare ragazzi, non ne ho la più pali idea Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi ci troviamo all'interno di una stanza misteriosa e soprattutto senza alcuna via di uscita E abbiamo soltanto 30 secondi per riuscire a scappare da questa stanza Bene, mancano 8 quindi mi sa che tra non molto siamo morti Dobbiamo darci una mossa, allora, allora, cosa possiamo fare? C'è un pulsante, se lo clicco di nuovo si resetta, non si resetta, ovviamente muoio Allora, 30 secondi per finire la mappa fatta da Vrenger, ok caro Vrenger Cosa posso fare? Uh, vero degli spigoli, vero degli spigoli Qua negli spigoli sicuramente ci sarà un pulsante, ci sarà qualcosa che mi serve cliccare Vero? No, no, non c'è nulla, ok Qua invece che cosa c'abbiamo? Non c'è niente Uh, vedo una botola, vedo una botola Dobbiamo aprire con la botola, dobbiamo aprire una botola Quindi dobbiamo stare alla ricerca di una leva, molto probabilmente Oppure di un pulsante, di qualcosa che mi serve No! Oh mio dio, ma come si fa a finire una mappa in 30 secondi? Ma siete pazzi? Sarà mica nella lava ragazzi la leva? Volete vedere che è nella lava? Oh mio dio, c'è qualcosa, c'è qualcosa, ok Aspettate, aspettate, uh, abbiamo trovato una pozione di fire resistance 3 minuti, molto bene, me la bevo adesso Mmm, gnam, 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 gnam E ora credo che ci dobbiamo buttare all'interno della lava Sì, 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 che cosa c'è? No! Ma, ma, ma sono morto Ma non è giusto Ma io pensavo che quella fosse la via d'uscita Allora, riprendiamoci la pozione Dov'è la pozione? Non c'è più Non c'è più la pozione? Pozione dove sei? Ah, eccola, perfetta Beviamocela immediatamente Credo che allora dobbiamo andare su Molto probabilmente dobbiamo salire su, visto che giù Ci porta giù e ci fa morire Dobbiamo andare su, oh, ecco qua Oh, si è resettato, abbiamo preso un checkpoint Ottimo, e qua c'è una leva Ah, vedete? Questa è una specie di checkpoint Credo, non ne sono sicuro Cosa c'abbiamo qua? 14, 0, 1, 0, 0, 0 10, 0, 0 Ah, è una combinazione Aspettate, ho capito, ho capito, ho capito È una combinazione, questo cosa fa? Uh, uh C'è una cesta C'abbiamo una cesta con i colori, ho capito Dobbiamo fare allora F3 più H In questo modo possiamo vedere i numeri dei colori Sì, vedete ragazzi che possiamo vedere Eh, siamo morto di nuovo Allora, dobbiamo essere molto veloci Prendiamo immediatamente i numeri dei colori Vediamo, vediamo, vediamo Quindi il numero 14 va messo al centro in alto Cerchiamo il 14 Ecco il 14, quindi il 14 è il rosso Poi il 10 invece va messo in basso Il 10 qual è? Il 10, il 10, il 10 È questo, va messo qui Ma no, ho sbagliato, questo non va messo qua Oh mio Dio, ho sbagliato tutto Allora, dobbiamo darci subito una mossa Quindi, 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 ci abbiamo Questo qua che è il 13 Dobbiamo trovare il 13 che va messo in basso qua Poi il 2 va messo qua E il rosso va messo qua L'1, 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 l'1 L'arancione va messo qua Quindi è rosso, arancione, verde Qua e poi questo qua, ok Oh mio Dio Ok, prendiamo subito il checkpoint Mancava un secondo Oddio, sono morto lo stesso Ok, siamo qua dentro, molto bene E ci abbiamo dei cartelli strani 6, l, bobby, 3, a, d, c, o, e Cosa Cavolo, c'è scritto, ragazzi E c'è un calderone Cos'è il gabinetto? Questo, devo fare il gabinetto Ok, ragazzi, non guardate Ma sono al gabinetto Sono in bagno Perché mi state spiando tutti quanti? Ah, sono delle parole You, quindi 1, 2 Questo è 6 Dobbiamo trovare il 2 You need Tu hai bisogno Dov'è il 3? Dov'è il 3? You need A code Quindi ti serve un codice 3, poi il 4 From, da From, da Quindi da trovare nel 6 Lobby Ti serve un codice dalla lobby Mi serve un codice dalla Oh no, devo tornare indietro Ma mi prendi Devo tornare qua dietro No, non è possibile Non c'è alcun codice Mi stai prendendo in giro Mi stai prendendo? Start Il nome forse è Forse devo cercare di salire Sulle liane Non è Oh, aspetta un attimo Oh mio dio Oh mio dio L'ho trovato Ok, abbiamo trovato il codice Molto bene Ora dobbiamo risalire su Quindi la pozione La pozione Velocemente Molto velocemente Abbiamo 2 secondi Oh no, stiamo morendo Siamo morti Ecco Allora, devo essere super veloce Quindi dobbiamo riscendere nella lobby Prendere il codice Prendere la pozione Uniamo Oh, posso cadere per favore Uniamo l'utile al diltevole Molto bene Quindi facciamo così Poi questo qua Questo qua Beviamoci la pozione immediatamente Già abbiamo 10 secondi Ah, di corsa Non ce la farò mai Non ce la farò mai Sono morto, sono morto, sono morto Sono praticamente morto ragazzi Sono un uomo morto Dai, 9, ok Andiamo di corsa Bam Abbiamo attivato No No Mi è sparito il codice No, ma non vale così Ma non puoi fare così Ma se lo mettessi nella cesta? Ma non è che mori e comincio da là? No, vero? Quindi Pozione immediatamente Ottimo L'abbiamo presa alla velocità della luce Poi questo Beviamo la pozione subito Senza perdere tempo Saliamo immediatamente Ci abbiamo la bellezza di 17 secondi Ho già cliccato la pressure plate Quindi non c'è il rischio Che questa volta vengo fregato Oh, perché si era bloccato? Perché il gioco è contro di me ragazzi Mi sa che il gioco è contro di me E dobbiamo mettere immediatamente Questo dentro l'hopper Va, 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 va No, 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 no La bottiglia Ok, dai, 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 dai Perché l'ho messo nel secondo slot E non ha funzionato? Mi sa che quello era il problema Allora Uno Due Vediamoci la pozione Subito, subito, subito Questo codice all'interno del gabinetto E abbiamo sbloccato un livello Oh, ok Abbiamo cliccato la pressure plate Molto bene E ora? C'è un albero con Uh, c'è Ma questa Che cos'è? Una cesta? Una cesta con l'elitra C'è un'elitra Quindi No No, ho capito Mi devo incastrare qua dentro Oh, mio Dio È stato più facile del previsto Pensavo che ci avrei messo degli anni Invece sono riuscito a farlo immediatamente E qua invece ci abbiamo dei cartelli Questo indica su Questo indica giù E questo indica giù Cosa devo fare? Uh, ci sono delle leve Ci sono delle leve Aspettate Le posso attivare? E poi qua c'è un'altra Vai Attivati Ok Uh, uh, ok Va, va, va Scendi, scendi, scendi Scendi Oh, mio Dio Cosa sta succedendo? E ora? Oh, sto volando Vai All'ultimo secondo Sono morto lo stesso Ma non è giusto Ma se l'avevo toccato all'ultimo secondo Io il checkpoint Non ha senso che tu mi ammazzi C'abbiamo una cosa che può rompere La dirt e la gravel Bene, quindi presumo Dobbiamo rompere la dirt E la gravel Giusto? Sì, sono abbastanza sicuro Quindi uno e due Poi tre Ottimo Prendiamo anche il quarto cubetto Perfetto E ora? Devo salire lassù? Ma non li posso piazzare Non posso piazzarli? Come? Aspettate Allora, dobbiamo essere super veloci Intanto non dobbiamo mai perdere Alcun secondo Perché tutte le mappe Sono fatte all'ultimo secondo Quindi dobbiamo essere super veloci E non sprecare mai il nostro tempo Quindi questi non si possono piazzare Proviamo a combinarli insieme Cosa succede se li combiniamo insieme? Non succede un niente Non succede un fico secco O forse bisogna fare così Oh mio dio Cosa devo fare ragazzi? Non ne ho la più pali idea Non ne ho la più pali idea Proviamo così? Niente No, 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 no Ci deve essere qualcosa Ci deve essere assolutamente qualcosa Proviamo uno così Poi Mannaggia Due E poi uno e due Oh! Oh mio dio Ok Ho creato una cosa Oh questa si piazza Molto bene Molto bene E adesso? E adesso come faccio? No, no, aspetta Ehi Ma Non mi ci ha fatto arrivare Ma non è possibile Ma cos'è un bug? Oh c'è un pulsante Oh mio dio Non me l'ho accorto Ho cliccato il pulsante Molto bene E ora cosa è successo? Oh si è aperto una porta Ottimo Ah ma c'era un pulsante Io tutto questo tempo Non l'avevo neanche visto Ok siamo all'interno Di una stanza con la redstone E no No Devo fare le pozioni Ma io non le voglio fare le pozioni Perché qua Perché mi blocca Oh ma c'è della redstone Ma c'è un blocco invisibile ragazzi Qua c'è un blocco invisibile Voi non lo potete vedere Beh neanche io lo posso vedere Però io riesco a sentirlo Perché sto cercando di andare davanti E si blocca Quindi qua c'è un blocco invisibile E io devo arrivare Ecco sono morto E io devo arrivare dall'altra parte Della mappa Quindi qua Però qua non ci posso arrivare Perché ci sono dei blocchi sopra di me Ho capito Quindi dobbiamo fare una pozione Dobbiamo fare una pozione E qua c'è un ender chest Che figata Abbiamo trovato un ender chest Molto bene Allora iniziamo a esaminare Tutte queste chest Che ovviamente sono vuote No Ok C'è un'altra Ma c'è un'altra cesta segreta sotto C'è un'altra cesta segreta Ti servirà Non perderlo Ok Questo pulsante mi servirà Dove stava la cosa La netherworld E eccola qua Perfetto Quindi dobbiamo fare immediatamente Una pozione Eh ma non ho tempo Ma come fa Ma non è possibile Ma non avrò mai il tempo Di fare le pozioni Ci metto almeno 10 secondi Solo a craftarsi La pozione Pè c'è un ender chest Oh mio dio Posso salvare tantissimo tempo Ok aspettate Dobbiamo prendere subito Il pulsante Prendi Prendi quel tantissimo pulsante Ce la fai Ok ottimo Quindi allora Visto che c'è un ender chest Possiamo mettere noi Nell'ender chest Diamoci una posta Mettiamoglielo adesso Mettiamo tutta questa roba E teoricamente dovrebbe essere qua Anche dopo Che sarò morto Quindi se muoio Riesco a prenderla Giusto E riesco a riprendermi Tutte le robe Senza dover perdere tempo Vediamo se sono qua Vediamo vediamo Ok si sono là Quindi con la prossima morte ragazzi Faremo le pozioni Non vedo l'ora E dobbiamo ricordarci Di prenderci anche questo Perché a quanto pare È importante E va piazzato Su un blocco di diamante Allora Diamoci una mossa Perché dobbiamo essere super veloci Quindi 1 2 3 Perfetto Mettiamo 1 2 3 Boom Ah le fai istantane Ah È ovvio allora Che è più veloce Immaginavo Perché io pensavo Che dovessi fare tutto quanto Il processo Ora per non rischiare Noi le mettiamo qua E aspettiamo Perché tra non molto Moriremo di nuovo E nel prossimo Nella prossima morte Nella prossima vita Le useremo Io pensavo Che dovessi aspettare Qua che si spuntavano Tutte le bollicine Che l'acqua bolliva Eccetera In quel caso Ci avrei messo troppo Invece le fai istantaneamente Allora Prendiamoci una pozione È questo Quindi ce la beviamo Ok Credo che io debba saltare Infatti Immaginavo Dobbiamo seguire il percorsino Così Ok Ce l'abbiamo fatta E dov'è il pulsante No è sparito Perché è sparito Ma È ancora nell'ender chest Aspettate Ce la faccio O sono impedito oggi Ma che c'è un blocco invisibile Che mi blocca No mi sa che sono proprio io Che sbaglio Aspetta 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 Ok Infatti ero proprio io Che sbagliavo E non me lo fa Prendere Vediamo Me la fa aprire No Non me la fa aprire Vabbè Allora Vorrà dire che non è così tanto Importante come credevo Qua ci abbiamo adesso Un passaggio Che è bloccato Da un blocco Quindi Quindi Che cosa dobbiamo fare Ci stanno dei pulsanti Clicchiamoli tutti Poi Attiviamo tutte quante le leve Ok Perché ci sta Un coso di redstone Lo vedete C'è un coso di redstone Allora Disattiviamo tutte le leve Tranne quella Credo che quella sia la leva La leva madre Ecco Quindi quella là Deve stare attivata E poi clicchiamo tutti i pulsanti Vai 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 E non è successo Assolutamente niente Per quale motivo Non succede niente Oh Ma qua c'è un altro Allora aspettate Dobbiamo dare un occhiato Dobbiamo cercare di vedere Tutti quanti I cosini di redstone Ci deve essere Dell'altra redstone Da qualche parte Oh eccola Perfetto Attiviamo anche questo Oh Si è attivato il passaggio Va vai 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 Corri Kendall Corri 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 Prendi il checkpoint Ottimo E c'è un blocco di diamante Ora Io so già cosa ci devo fare Con quel blocco di diamante Oh eccolo Ok Eh no mi è sparito però Oh no Quindi lo dovevo lasciare All'interno dell'ender chest Ehm Devi tornare indietro E trovare il pulsante nascosto Eh io l'avevo trovato Il pulsante nascosto Il problema è che mi è sparito Dall'inventario Ecco cos'è successo Te lo dico Veramente È sparito eh Ce l'avevo in inventario Ma poi è sparito Completamente Quindi Dobbiamo rifare un parkour Ma non ce la farò mai Con il tempo Non ho abbastanza tempo Per finirlo Ok aspettate Facciamo Eh no Aspetta Eh no si è bloccato tutto E come faccio Ehm Ragazzi Non fate domande Siamo riusciti a tornare qua Non ho assolutamente Cambiato la game mode No 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 Ok Abbiamo messo il pulsante all'interno Dell'ender chest Molto bene Quindi adesso lo possiamo piazzare Badabum Badabim Badabam Bam 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 Ah thanks for playing Abbiamo finito la mappa Oh mio dio Guardate Quanti livelli Abbiamo fatto Che figata di mappa Veramente un ottimo concept Mi è piaciuto molto Il fatto che avevamo solo 30 secondi Per trovare gli indovinelli E riuscire a scappare fuori Da tutte le stanze Mi sono divertito tantissimo Mi raccomando ragazzi lasciate un bel mi piace per questo video Se vi siete divertiti Dal vostro imperatore candle è tutto E noi ci vediamo domani con il prossimo video Ciao 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 Ciao